10 anni di Sky sono stati soprattutto 10 anni di grande emozione abbiamo cercato attraverso lo sport di regalare la stessa passione che noi avevamo per quello che stavamo vedendo, per quello che stavamo trasmettendo e per il nostro lavoro se siamo riusciti a fare qualcosa l'abbiamo fatto perché è la nostra anima che ha parlato e credo che questo sia molto importante quando riesci a trasmettere le tue emozioni, a farle diventare anche le emozioni di tutti sei riuscito probabilmente a lavorare nella giusta maniera ma 10 anni sono in passato, quello che conta poi sono i 10 anni che verranno e i 10 anni che verranno saranno ancora di più 10 anni di grande emozione con lo sport e non solo